Fanno il culo le mosche, con tutta la merda che c'è in questa città vengono da noi Il problema è che puzzi da fare schifo, Bobby E questo le mosche preferiscono te ai cadaveri Chiudete il becco voi due, qui c'è gente che lavora Ah, star lì a guardare la casa bianca tu lo chiami lavorare Mi sa che sei fuori strada Nessuno ha mai detto che stare di guardia sarebbe stato divertente, a parte qualche idiota forse Bonney non pensa sia divertente, ma è comunque un coglione State zitti tutti, sembra di essere in una città scolastica con dei ragazzini Hanno cominciato loro Lo giuro su Dio, Bonney Movimento, giardino sud È un agente della divisione Sì, riesco a vedere il suo orologio Galveston, Bonney, tocca a voi, scoprite dove va Davvero mi mandi con mister Fialetta Cuzzolente qui? Basta chiacchiere, datevi una mossa Via, via, via Ah, che ridere Fialetta Cuzzolente Ti ha ragione, che ridere Battuta sarcastica Strabattuta sarcastica Strabattuta sarcastica Strabattuta 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 Sì rilevati ostici in arrivo l'ho messo Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 non mi posso colpire da qui quel minigar potrebbe aiutarci sono tutta tua hai visto che colpo? non durerà ancora molto altri contatti ostici rilevati non li faccio avvicinare arrivano molti altri rilevato stile con curanza pesante 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 rilevato stile con pura rilevato stile con curanza pesante Il formamento è bloccato. 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 è bloccato. è bloccato. Il formamento è bloccato. Il formamento è bloccato. è bloccato. Il formamento è bloccato. 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 sono bloccato. è bloccato. è bloccato. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.